Un piccolo market della droga ubicato in un'abitazione in pieno centro e dosi di marijuana disponibili soprattutto per i più giovani è accaduto a Modugno. Il costante via vai di ragazzi negli ultimi tempi ha fatto scattare la segnalazione al 112, così i carabinieri hanno voluto vederci chiaro. Proprio nei giorni scorsi i militari hanno effettuato delle verifiche da cui è scaturito un controllo ad un 29enne che si allontanava dall'appartamento in questione. Quest'ultimo è stato trovato in possesso di una dose di quasi due grammi di marijuana e pertanto è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. A quel punto i carabinieri hanno approfondito la vicenda scoprendo così una coppia di ragazzi dediti all'attività di spaccio, un 22enne ed una 19enne. I due possedevano 15 dose pronte di marijuana e due bilancini di precisione. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza mentre la ragazza è stata denunciata in stato di libertà e proprio nell'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti a Modugno qualche giorno fa i carabinieri hanno sequestrato altri 43 grammi dalla stessa sostanza occultati in una cavità di un albero d'ulivo ubicato in una stradina di campagna vicinissima al centro abitato.